Buongiorno, buongiorno amici di Ciao Como, buon pomeriggio, tantissimi di voi ci hanno fatto diverse segnalazioni sulle strade sporche, sugli interventi da fare e allora ve ne facciamo vedere un paio e poi sentiamo magari anche quelle che sono le disposizioni del comune di Como. Qui siamo in via Borsieri a Como e in effetti potete vedere, molti ci hanno segnalato, ecco sì, facciamolo proprio vedere qui sotto, vedete dove ci sono le macchine, ma non è colpa ovviamente delle macchine, c'è parecchia sporcizia come potete vedere, sporcizia varia, anche mozziconi di sigarette e questo, i marciapiedi che sono comunque sporchi e queste sono le vostre segnalazioni, questa è la via Borsieri ma c'è anche la via Toriani più avanti, con noi c'è ecco qui l'assessore Marco Galli che è qua, buongiorno assessore, buongiorno Marco, questa è una segnalazione ma qua avanti ecco poi vediamo in effetti anche i marciapiedi che non sono messi benissimo ma lo sai meglio di me probabilmente e vedi ecco guarda anche qui mozziconi assortiti e tanta gente ci diceva fate qualcosa, via Levarese, via Toriani, questa via Borsieri ecco così vedete, allora assessore mi dicevi che però adesso qualcosa, abbiamo deciso di intervenire perché così com'è non piace neanche a noi, quindi ieri si è fatto un incontro con i vertici di Africa con chi si occupa nella quotidianità di questo tema, allora abbiamo deciso di dedicarci seriamente a fare delle pulizie di fondo e di fino, ecco tra l'altro anche qui vedi Marco, vi faccio vedere qual è il problema allora se voi vedete guarda, lo sporco ce l'hai in corrispondenza di queste gomme, non è colpa della macchina eh, l'ho preciso perché qui è un parcheggio però sento guarda questa macchina qua che è in sosta dov'è che non sono andate a pulizie? a parte è l'inciviltà di lasciarle mascherine in giro no ma siamo questi livelli qua, la gente butta per strada tutti e però non è Marco guarda guarda esattamente, allora vi spiego qual è il problema, il problema è, ho parlato, mi sono confrontato con gli operatori di certo la colpa non è delle macchine, ecco la colpa non è delle macchine che sono parcheggiate regolarmente sono parcheggiate negli stalli giusti, allora il tema è questo, adesso abbiamo verificato degli interventi che riguarderanno delle vie, le zone, una 20, 25, 20 circa, faremo delle pulizie di fino quindi si darà la lustrata sul serio ai marciapiedi, sul serio a quello che è il deposito che si vede tra l'asfalto e i marciapiedi, questo per esempio, perché anche questo qua, vedi? non va bene, non ci siamo proprio, allora adesso ho chiesto ad Aprica un intervento deciso di pulizia come deve essere fatto, è stato concordato, come al solito massima disponibilità da parte loro certo che questo comporterà sicuramente una, come dire, un'ordinanza che prevederà le non auto parcheggiate, per esempio qua siamo in questo momento qua in via Borsieri qui siamo in via Borsieri, via Toriani il giorno X ci sarà una caratterizzazione, quindi non nell'ultimo minuto, non a caso diremo che dalle 6 del mattino alle 10 del giorno X le auto non potranno sostare è l'unico sistema che abbiamo per poter veramente intervenire di fine, perché come potete capire se la macchina parcheggiata durante il momento di passato non ci arrivano con i mezzi, non ci arrivano proprio allora l'unico sistema è via le macchine e puliamo l'altro intervento che è stato stabilito ieri e che mi piace molto anche poter raccontare oggi è che a partire dal primo sabato di settembre, per tutti i sabati successivi, ogni sabato un quartiere della città a rotazione verrà, come dire, un po' ribaltato, messo bene a soccuadro, ripulito quindi una squadra importante di operatori che andranno nel quartiere e puliranno in maniera molto importante quindi oltre in più al servizio solito, quindi dal primo sabato di settembre tutti i quartieri, perché adesso sicuramente i nostri ascoltatori avranno più operatori, magari un raccoglitore o un compattatore vedremo anche come aiutare il cittadino per il conferimento del qualcosa quindi quel sabato dalle 6, 7 del mattino fino a mezzogiorno per dire si cerca di fare un intervento di pulizia veramente ben eseguita su ogni singolo quartiere questo perché si dice spesso che i quartieri sono un po' abbandonati che c'è solo attenzione al centro, non è così e quindi abbiamo deciso di fare questo intervento quindi allora, questa è una cosa importante, tutti i quartieri tutti i quartieri a rotazione a partire dal primo sabato di settembre, la mattina del sabato sarà un oggetto di pulizia importante quindi vuol dire, via c'è spuglietti d'erba, via quello che si troverà per strada c'è proprio un intervento ben fatto su un quartiere un'auto qui è andata via ecco, guardate in teoria, solo adesso potremmo intervenire sì, ma ho capito, però non si può fare qui veri assessore perché questa macchina giustamente è in sosta regolarissima quindi l'unico sistema per arrivare qua cos'è? non far mettere le macchine per qualche ora in stallo qua perché guardate, però l'inciviltà è veramente pessima assessore adesso è vero che Como ci sono delle zone dove però effettivamente anche, vedete, c'è tutto Marco ci faccio una foto anch'io per fare la differenza perché diamine in questi giorni devo dire che l'abbiamo segnalato più volte e più volte abbiamo cercato di intervenire con mezze misure no, le mezze misure della vita a certe volte non fanno comodo di nessuno quindi si cercherà di chiedere al paziente e ai cittadini per qualche ora la macchina dovranno metterla da qualche una parte però il pomeriggio avranno finalmente e questo è molto importante ecco, strato ci segnalano non sembrano proprio abbandonate bravo non va bene non va bene sei concordi? poi l'inciviltà di chi butta la mascherina, la plastica, la bottiglietta non va bene non possiamo però insegnarle molti ci dicono che c'è un po' più grande inciviltà perché questo qui, anche i mozziconi assessore però dobbiamo intervenire noi in questo caso e metteremo mano, ripeto proprio ieri mattina si è deciso questi interventi veramente importanti perché è una sensazione di abbandono che comunque non si merita i cittadini non si meritano mi pare corretto allora noi ce l'hanno segnalato io te l'ho detto tu ci hai messo la faccia io vi dico che il tempo di programmare i giri delle città le ordinanze dovute via per via quindi con la collaborazione anche dalla polizia locale e dal CSU che governa i parcheggi blu quindi un'azione che non avrà il risultato fra sei giorni e ve lo dico perché ora che mettiamo in moto tutte queste formalità ma in breve vogliamo veramente dare un'allustrata ad alcune vie che veramente vediamo perché così non possono tra l'altro qui siamo vicini a Cento sono via Borsieri questa è la via Torriani voglio dire non è che allora ecco giustamente Enrico dice le cicche di sigarette ma guardate ma guarda che ce ne sono capisco che uno fuma però ci sono i cestini e non è che non ci sono perché guarda i cestini sono lì vedi perché non ci sono i cestini quindi va anche detto che voglio dire poi a volte l'inciviltà è da fastidio allora Roberto dice più cestini secondo me cestini però può essere allora Roberto Roberta Roberta scusa allora giusto anche questo per le disponibilità che abbiamo in questo momento a disposizione economiche ieri è stato stabilito un acquisto di cestini come quelli qualche cestina invece autoportante molto grosse insomma quelli da 110 litri qualcuno in alcune posizioni strategiche della città e dopodiché io ho chiesto se è possibile andare a ricercare un acquisto un lotto di contenitori per mozziconi ah beh ok perfetto che sono quelli che poi andrebbero a raccattare come vedete questi mozziconi che veramente quindi cercheremo di mettere in giro spazi per la città dei portamozziconi per due motivi uno perché questi mozziconi qui non vanno bene no non vanno bene no due due come fatto notare dalla consigliera Mantovani durante una mozione mi sembra il consiglio comunale qui comincia il lago qui comincia il mare dicevano cioè no è vero perché tutto questo poi va a finire esatto cerchiamo di fare più azioni contemporanee quindi non solo un po' più decoro anche un'azione preventiva rispetto all'ambiente molto bene il terzo tema è che questi bussolotti per la raccolta dei mozziconi avranno poi anche quello una come dire un riciclo perché col mozzicone si fanno gli asfalti ok quindi l'azione è un po' più diciamo allora stanno chioccando assessore come immagini segnalazioni no nel senso mandateli mandate segnalateci siamo d'accordo ovviamente molti dicono anche le deiezioni dei cani perché anche quello vanno pulito sui marciapiedi illustreremo i marciapiedi le strade ogni per via per via una cosa chiedo però pazienza quando arriverà il giorno in cui nella vostra via non si potrà parcheggiare per qualche ora perché se dopo l'azione ah ma ci fate portare via le macchine è il cane che si morde la coda cioè noi non possiamo intervenire quindi vi chiedo anche pazienza in questa direzione cioè laddove uno abita questo signore qua non può lasciare la macchina ecco deve sapere che quella notte non può lasciarmela ecco tante segnalazioni che arrivano davvero e grazie a voi amici allora Roberto Biangetto Giussi Silvana che parla di inciviltà ovviamente Sara dice di via Rosales poi segnaleremo tutto anche il centro dice Massimiliano Oscar Albate va bene Assunta dice che servirebbero forse Cestini va bene ok poi Cestini abbiamo detto Paolo dice che a Varese è peggio confidiamo nella civiltà della gente Maura ciao Augusto prego se vedete guardate la differenza tra questo marciapiede che è raggiungibile dall'azione meccanica della spazzatrice guardate qua faccio vedere guardate la differenza perché è una cosa no 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 ma infatti va tutto facciamo bene a fare questa cosa guardate la differenza allora qua se vedete è la stessa però qui si riesce ad arrivare tra il marciapiede e il cibo se vedete comunque ci sono due carte si certo però se voi guardate la linea è una linea pulita perché la spazzatrice riesce ad arrivare fino qua ok il tema dov'è è vero ecco qua adesso non ci sono le macchine perché sono le qua non ci sono le macchine perché le hanno tolte però cosa succede che quando c'è la macchina di sera parcheggiata la spazzatrice non ci può arrivare quindi l'unico sistema chiede ai cittadini diciamo in maniera rotata nel cronoprogramma insomma le do mettere la macchina parcheggiata si cercherà di dare però vedete c'è davvero però ci tenevo molto a far vivere hai fatto bene hai fatto benissimo un punto di azione eseguita è brutto quello che ci dice William perché dice che in via Castelcarnasino Africa è passata ha pulito e adesso è ancora purtroppo l'inciviltà e questo non è bello assolutamente grazie William ma ormai prende la mascherina buttala per terra la bottiglietta è diventato quasi normale non per me e non per molti di voi e per fortuna molti ancora la pensano così però noi non possiamo diciamo insegnare educazione civica no possiamo purtroppo cercare di intervenire mi raccomando mi raccomando questo però è una rassicurazione importante io ringrazio l'assessore della mia grazie a voi grazie anche noi abbiamo ricevuto tante segnalazioni noi adeguiamo il tiro diciamo che la risposta migliore per noi amministratori siete voi cittadini cioè se facciamo bene o male non è che dobbiamo autocelebrarci o auto siete voi il cittadino è resatto riscontro di quello che facciamo quindi va bene così ringrazio assessore grazie e a presto allora perché mi dicevi ci sono anche altre novità importanti ne parliamo nei prossimi giorni grazie all'assessore mi raccomando un po' di civiltà non guasterebbe perché vedere insomma queste cose qua come abbiamo visto prima insomma ecco vabbè l'erba poi andrà ritolta però anche tutte queste cose abbandonate bottigliette plastica mozziconi insomma signori non va bene non ci siamo grazie assessore grazie grazie